E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto io sono Emiliano e anche oggi torno al nostro consueto Morning with Crypto l'appuntamento che ci accompagna dal lunedì al venerdì con le principali news di mercato con quello che è successo la notte andremo ad approfondire quelle che sono le notizie riguardo la comunicazione SEC BlackRock perché è importantissimo capire che cosa è stato chiesto e per chi è stato chiesto questo e soprattutto andremo ad approfondire anche le elezioni del presidente dell'Argentina un po' un tizio un po' particolare vi dirò cosa ne penso io personalmente detto questo non perdiamo altro tempo come sempre prima di partire il mio invito è uno quello di lasciare un bel mi piace coloro a questi contenuti forse di vostro interesse di vostro gradimento a me aiuta tanto col canale e se siete nuovi ricordate anche di iscrivervi appunto col clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati detto ciò se volete sostenere il mio lavoro completamente gratuito trovate qua sotto tutti i link in descrizione con i principali sconti fee che vi danno accesso a tutto quanto soprattutto sostenete il canale e vi danno sconto maggiore detto ciò non perdiamo altro tempo e partiamo partiamo velocemente da una notizia su Cardano perché Charles Hoskinson Hoski Hoskinson sì io non riesco mai a capire come si pronunci correttamente quindi ve lo ripeterò sempre tre volte ma praticamente ha fatto una proposta a quello che è l'ex CEO di OpenAI appunto Sam Altman riguardo l'integrazione all'interno del suo team per andare a fare un linguaggio un modello di linguaggio decentralizzato chiamato LLM come sulla rete Cardano insomma banalmente questo è un po' un annuncio un po' secondo me di marketing vi dico la verità perché sappiamo essere estremamente basata sull'hype Cardano ed è da un po' che insomma non se ne parla è da un po' che non si sente più quella energia che si sentiva fino agli anni precedenti insomma soprattutto nel bull market precedente staremo a vedere a mio parere è più una notizia così che è tanto di reale e concreto poi staremo a vedere magari il mercato chiaramente ci fa da cambiare idea con i dati e con i fatti però a mio parere nulla di più così come in realtà nella notte è stato eletto effettivamente a questo punto Javert-Miley come prossimo presidente dell'Argentina che perché fa notizia questa cosa? perché il signore è questo qua dove potete vedere che tipologia insomma ha già parlato durante la campagna elettorale strappando i nomi dei vari ministri ha parlato di come bitcoin è una soluzione quindi chiaramente anche sul prezzo di bitcoin può avere un impatto a mio parere però bisogna stare estremamente con i piedi per terra perché punto uno quello che penso io persone così me fanno un po' di paura come sempre perché sappiamo queste persone sono dei politici che fanno campagne elettorali e che a vederli non sembrano neanche totalmente a centro e a fuoco quindi capite che sono situazioni particolarmente complicate e soprattutto spinose quindi staremo a vedere se effettivamente bitcoin potrebbe avere un reale utilizzo all'interno dell'Argentina oppure si trattava solo di una questione di campagna elettorale punto uno punto due ripeto non fai conti solo lui con l'Argentina ma ci sono anche diverse dinamiche con i fondi monetari internazionali con la situazione economica del paese che non è tra le più semplici con un'inflazione molto elevata quindi sapete la differenza che c'è tra una campagna elettorale e quello che effettivamente si può andare a fare soprattutto in queste situazioni la terrei monitorata quindi bene ma bitcoin a mio parere non ha bisogno né di El Salvador né di questi signori ha bisogno di arrivare a più persone possibili di capire l'importanza dei bitcoin senza basarci su una persona una persona unica perché ha lo stesso discorso che facevo già su Michael Saylor cioè benissimo che ne compri però siete con una persona che ha in mano tanto potere e può fare quello che vuole quindi capite no? di cosa stiamo parlando detto questo sto parlando a livello di prezzo detto questo passiamo al piatto forte cioè quello che ha fatto un po' parlare venerdì perché ho proprio detto lunedì ne parliamo perché da venerdì a lunedì un attimino capiamo bene di cosa stiamo parlando soprattutto non abbozziamo cose a caso praticamente è uscita questa notizia riportata da Eric Balchman che ormai diciamo che è l'insight per quello che riguarda gli etf su bitcoin e praticamente ha comunicato che cosa? ha comunicato che la SEC starebbe parlando con i vari emittenti portandoli verso una soluzione non più in-kind ma a cash create cosa cambia? ok? cambia vi dico prima cosa cambia poi vi dico il mio punto di vista su questa cosa cambia sul fatto di come viene regolato il processo dell'etf ok? non cambia sulla fisonomia dell'etf in sé cambia sulla modalità che ha questo etf di andare a reperire i capitali e spostare i capitali perché nel caso di un in-kind praticamente diciamo potrebbe se c'è un trasferimento ok? di quote di questo etf può essere fatto in natura quindi nella stessa controparte contenuta all'interno dell'etf ok? sto cercando di renderla il più semplice possibile nel caso dei cash create praticamente l'apporto potrebbe consistere sia nel valore in cash praticamente in contanti del sottostante quindi perché è stato chiesto questo? per una questione di comodità nella trasferimento delle quote altrimenti dovrebbe essere delle entità particolari messe in altre località non regolamentate per poter spostare certi fondi quindi è stata chiesta questa cosa qua qual è la differenza? la differenza sta per noi sta nel livello fiscale di questi etf soprattutto stiamo parlando non la so nel dettaglio la differenza fiscale nel senso vi spiego quali sono i parametri poi lì si parla della fiscalità statunitense quindi già ne abbiamo abbastanza con quella italiana direi ma in ogni caso è una questione di fiscalità per la questione del sottostante dell'assetto sottostante e quindi alcuni erano già pensati in questo modo altri erano ancora in kind e quindi si sta andando a cercare di capire se si trova una soluzione ma perché è importante? arriviamo a quello che conta perché significa che il dialogo sta andando avanti e che tutto il resto probabilmente la struttura di base va bene altrimenti prima devi andare a definire same kind o cash create capite che siamo ai dettagli a mio parere e quindi è molto importante perché stiamo andando in una direzione estremamente importante per bitcoin cioè arrivare finalmente a questo etf che può portare maggiore confidenza e finalmente sfatare tutti i tabù su bitcoin su è una truffa non è una truffa eccetera eccetera quindi arriviamo con un prodotto regolamentato molto importante sono cose da non sottovalutare a mio parere ma da starci estremamente attenti insomma detto questo passiamo ai gainers delle 24 ore synthetics più 20% near protocol più 11 gala più 10 mutable più 10 mina più 9 hardware più 8 the graph più 7 numeri veramente importanti tra i losers troviamo chi celeste o meno 6.60 con un più 27 settimanale coin che ci ha tolto estreme soddisfazioni trovate il link qua sotto per entrare gratuitamente nei vari gruppi dove ne parliamo render o meno 6 ma anche le vedete settimana fantastica di ydx meno 4 ordip meno 3 xdc meno 2 sono numeri ragazzi ve lo dico molto molto vicini ai numeri del bull market e per chi mi dice che non siamo in all season gli invito a guardare alcune al coin che cosa hanno fatto poi che siamo dontani dagli all time mai va bene ma che non siamo in all season o che comunque le al coin non si stanno muovendo state attenti cioè a quello che dite perché è un po' un po' pericoloso bitcoin come messo a mio parere molto molto bene stiamo parlando sempre di probabilità ok non sono consigli di investimento non sono fatti all in ma è messo molto bene perché si sta stringendo nel nostro equilibrio di cui parlavamo 1 2 3 4 vediamo se si stringe ulteriormente però da notare 12 è mantenuta alla perfezione 26 è ancora testata 26 che soprattutto si trova in zona 35 e 3 e 12 a 36 e 5 quindi vedete molto molto vicine la 50 si trova ancora in zona 33 ma è molto comodo che sia arrivata al nostro principale livello di supporto questa zona qua rossa e quindi possa tornarci a dare una mano a livelli più elevati almeno di uno shake importante è messo molto bene bitcoin sta provando a sparare sopra i 38 mila dollari che è la sua principale diciamo resistenza di breve termine il prossimo target rimango in zona questa qua 40 psicologici barra 42 insomma queste zone qui già evidenziate a suo tempo cioè non sono zone ragazzi che abbiamo messo oggi perché ci svegliamo così andate a vedere i video di 6 mesi fa troverete le stesse identiche zone perché sono le zone di attenzione più importante sulle macro strutture di bitcoin detto questo a livello settimanale un attimo di zoom out ancora come siamo messi anche qua lo vedete molto bene con una settimana chiusa precedente con un'estrema candela molto bella perché è una candela con una shadow importante a ribasso che ci fa comprendere come la domanda è prevalsa su quella che l'offerta ci ha riportato a chiudere in positivo sui 37.4 nonostante siamo andati giù fino ai 35.000 dollari ethereum anche lui messo bene sta anche lui andando a sparare vicino alla sua resistenza anche la giornata di ieri ha avuto uno spike lo vedete fino alla zona del 2115 oggi ripertura abbastanza scarica ma in ogni caso è molto interessante perché questa è una doji di indecisione seguirà molto il movimento di bitcoin abbiamo da osservare anche la nostra carissima dominance che continua nella sua indecisione nella sua debolezza perché si siamo andati a fare un minimo scusate siamo andati a fare un minimo ma poi siamo andati leggermente in un recupero tecnico ma nulla di particolare ragazzi cioè non vedo particolare forte siamo stoppati da 1226 potremo tranquillamente andare a fare anche una bear flag e continuare a ribasso questo sarebbe fantastico chiaramente per il discorso al coin un piccolo check solo su appunto anche tia molto interessante questa ve la faccio vedere così non vi dico nulla perché vi aspetto nel gruppo perché uscirà un'analisi molto interessante che spero potrà esservi di aiuto a tutti stessa cosa vale per il livium che sta regalando soddisfazioni e anche questa è nei nostri radar detto questo mi fermo non voglio aggiungere altro ragazzi perché sono andato lunghissimo anche stamattina spero comunque che vi sono riusciti a dire un po' tutto quello che era necessario dirvi oggi vi auguro una splendida giornata e noi ci aggiorniamo prestissimo con un prossimo video ciao a tutti ragazzi grazie a tutti grazie a tutti